Super sfogo raga, super sfogo da parte mia La Juventus perde 2-0 al Juana Metropolitana contro l'Atletico Madrid No, 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 cavolo no Non si può perdere 2-0 dai Negli ultimi 75 minuti, negli ultimi 80 minuti si fanno fare due gol Non ci voleva questa, cavolo Ora va a fare i tre gol, due gole, tre gole, quattro gole, cinque gole al ritorno Vagliela a fare a questo Atletico Madrid che si è meritato pienamente la vittoria raga Io sono sportivo raga, molto molto sportivo e l'Atletico Madrid si è meritato questo 2-0 Perché non mi è piaciuto affatto la Juventus Ha fatto, non ha fatto per niente una bella partita Sì, ha fatto il suo dovere, ma non ha fatto quello che doveva fare Di segnare almeno un gol O almeno di tenere il pareggio raga Almeno quello doveva fare Almeno doveva tenere il pareggio E non l'ha fatto Siamo, non dico perché sempre la Juventus La mia squadra del cuore Quindi forza Juve fino alla fine Però penso che siamo quasi, ma quasi fuori Non è detto perché siamo sempre la Juventus Come ho detto prima Però è difficile raga, difficile È difficile insaccare questa cosa ora Ci penso tutta la notte a questa partita Se falliamo l'obiettivo Champions League Abbiamo fallito Abbiamo fallito Se fallisce questo obiettivo Abbiamo fallito Quindi non possiamo farci Niente Però c'è ancora il ritorno Quindi io sono fiducioso Quindi lasciate un bel like Mi raccomando Raga, analizziamo un po' la partita Allora, sul gol di... Allora, hanno fatto... Ha fatto una buona partita sia Scesni che Chiellini Quelli che mi sono piaciuti di più Sono stati loro, sinceramente, la Juventus Scesni ha fatto un miracolo, raga Nel palonetto di Griezmann Tipo l'ha fatto così Tipo l'ha toccata con le pute delle dita Poi Chiellini si è fatto Perdonate l'errore che aveva fatto prima Quindi, ciao per loro due Centrocampo non mi è piaciuto Per niente La Juventus Molli, mochi Molli, molli, molli L'attacco non mi è piaciuto L'attacco non mi è piaciuto L'unico che ha fatto qualche cosa È stato Cristiano Ronaldo, sinceramente Che io ho messo davvero l'anima Come in ogni partita Chi la mette Quindi... Ai 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 No Questo è stato un super sfogo Da parte mia, raga Non si può perdere 2-0 Contro la del Dicomando Indie Che è una squadra fortissima Ma in questo periodo Non era per niente in forma Quindi... Non so che dire, raga E niente, raga Se questa mia reazione mi è piaciuta Facete un bel like di supporto Vediamo se domani vi porto la reazione a freddo Non lo so Non vi assicuro niente E niente, raga Facete un bel like Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra Iscrivetevi al canale A tutta la campanellina Ci vediamo al prossimo video Mi bella ragazzi Grazie 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 Grazie